I recreti sono proprio allarmismi inutili e dannosi anche alla libera convivenza, insomma, anche perché, volevo dire, bisogna che si sappia che tuttora, fino a che ci siamo, noi siamo, dopo il Comune d'Arezzo, il secondo maggior azionista dell'LFI. È il Presidente della provincia di Arezzo, Roberto Vasaia, rassicurare in merito al futuro del trenino che collega Arezzo con il Casentino e più in generale sull'intero servizio ferroviario aretino. A lanciare l'allarme era stato il Presidente LFI Maurizio Seri, che aveva definito a rischio il trasporto ferroviario casentinese, un problema che, secondo Seri, aveva a che fare con la sopravvivenza stessa del servizio ferroviario. La provincia ha investito molto anche di capitali propri per salvare l'LFI e conseguentemente la ferroviaria, che abbiamo sempre ritenuto strategica anche per questo territorio. Purtroppo i tempi cambiano, cambia anche il sistema amministrativo dopo leggi e norme che cambiano, cambia lo scenario e siamo arrivati ad avere la provincia che, in base alla normativa del Rio, deve uscire da queste società e così stiamo lavorando e stiamo andando in una direzione che ce lo dice la legge. La legge del Rio ha infatti stabilito che le province si occupino unicamente delle strade provinciali e delle scuole di secondo grado. L'ente attualmente possiede il 5,3% delle quote LFI, ma in conseguenza al riordino la provincia ha offerto le proprie azioni ai comuni e al pubblico in generale rifiutate. Ha poi chiesto alla società di riacquistare le quote. È una trattativa lunga che ha visto proprio in questo tavolo qui accanto una ipotesi di soluzione che in quel momento sembrava che avesse trovato anche l'accordo dei vertici dell'LFI. Poi dopo una settimana, un mese, passa una settimana, passa un mese e nessuno sa nulla e noi siamo andati avanti. La vicenda al prossimo gennaio approderà in tribunale. LFI ha ovviamente nel suo consiglio di amministrazione e nell'assemblea dei soci manifestato la volontà di impedire alla provincia di rescindere dalle proprie quote. La provincia ha quindi impugnato questo atto e chiesto al tribunale di pronunciarsi sul fatto che fosse possibile o meno per noi rescindere dalle nostre quote in LFI e quantificare eventualmente il valore delle quote da dover versare alla provincia. Anche se il giudice dovesse dar ragione alla provincia, non c'è alcun rischio di liquidazione della società perché non si scenderebbe sotto il 51% di quote pubbliche. Quindi il rischio paventato dal presidente Seri è assolutamente non reale. Grazie. Grazie. Grazie.